La pioggia e il maltempo ha creato più di un problema, soprattutto sul lungomare e su alcune vie interne che si sono completamente allagate. Consigliere Carusi, lei ha espresso più di una critica, soprattutto attraverso i soldi. Purtroppo sì, dobbiamo riscontrare che le solite criticità che ormai si ripetono con le precipitazioni non sono state risolte. L'amministrazione comunale ha investito dei soldi pubblici negli ultimi anni e il problema è ancora lì. La precipitazione di ieri non mi sembra essere stata così straordinaria, siamo stati fortunati rispetto ad altri paesi e a noi limitrofi e abbiamo riscontrato delle drammatiche criticità. È arrivata anche ieri una lettera che lei ha mandato in comune che si riaggancia alle problematiche ma va oltre che si parla anche di altre comune. Abbiamo un'amministrazione comunale mai inadeguata, incapace nel gestire la cosa pubblica, abbiamo ormai la necessità di appurare come vengono affidati certi servizi. Ci sono ditte che negli anni hanno affidamenti diretti ripetuti, vincono gare d'appalto a ribasso e non comprendiamo, non capiamo quale sia poi l'attività che viene svolta da queste aziende. Il clima continua ad essere comunque teso? Teso ma non dobbiamo essere noi della Lega Tortoreto ad essere in pensiero preoccupati, semmai chi gestisce la cosa pubblica a Tortoreto dovrebbe fare un bagno di umiltà, mettersi la mano sul cuore e iniziare ad agire per il bene della collettività. Abbiamo riscontrato con i lavori terminati tra l'altro da poco che l'acqua ristagna sul lungomare Sirena, ristagna su via Aldomoro, su via Vespucci, su via Roma, insomma su tutte quelle strade che comunque hanno rappresentato delle problematiche. La cosa gravissima, a nostro avviso, che abbiamo riscontrato ieri è che la sera precedente, mentre Giulia Nove dal Batriatica, stando a ciò che ci hanno raccontato, hanno aperto le prese a mare, le cavate a mare e i chiusini, a Tortoreto erano rimasti chiusi. Da qui è venuta la necessità di contattare attraverso una PEC certificata all'ufficio manutentivo e capire cosa sia successo, perché è ora di far rispettare innanzitutto le regole e soprattutto incominciare ad individuare quali siano le responsabilità e da parte di chi.